Si è riunita questa mattina a Villa Devoto la giunta regionale, presiduta dalla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Provvedimenti tanti, diverse variazioni di bilancio che servono un po' a tutti gli assessorati e soprattutto per quanto mi riguarda un tema legato al corpo forestale. C'è un incendio in corso anche in questo momento a Sarroc e quindi c'è moltissima attenzione finché il corpo forestale sia strutturato correttamente. C'era una scadenza rispetto agli ispettori che sono funzionali facenti funzione e ne abbiamo approvato la proroga sia per la stagione degli incendi ma soprattutto dobbiamo bandire un concorso che ovviamente copra quelle posizioni. Poi ci sono state diverse discussioni appunto relativamente a temi sanitari. La cosa importante che abbiamo portato in questo contesto è relativa al fatto delle cure palliative, quindi del potenziamento delle cure palliative. Un primo stanziamento che chiaramente deve essere rafforzato relativo ai caregiver. Ci siamo mantenuti perché abbiamo verificato che sono necessari ulteriori passaggi dei provvedimenti più sostanziosi che riguardano le liste d'attesa. Abbiamo affrontato le cose urgenti che avevamo sul tavolo. Quello che per me è importante invece raccontarvi è che ci sarà un'ulteriore giunta venerdì per il commissariamento della città di Calderi. Quindi faremo una giunta straordinaria venerdì mattina proprio per deliberare sul commissario.